Si celebra in questi giorni a Leporano la festa del Santo Patrono Sant'Emidio, l'occasione migliore per formalizzare l'ingresso della cittadina nell'Associazione Nazionale delle Città del Santissimo Crocifisso. Un'adesione avvenuta lo scorso marzo e formalizzata proprio durante la cerimonia religiosa in onore del Santo Patrono, celebrata dal parroco di Leporano Monsignor Pasquale Morelli, alla presenza delle municipalità provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. Un momento importante perché questo cammino di fraternità segna, in un contesto così importante come quello della festa patronale per noi, un momento di fraternità con tutti gli altri comuni, ma anche di scambio culturale, religioso e anche di fraternità. Una grande famiglia, quella dei comuni aderenti all'Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso, di cui oggi, con la consegna della bandiera recante ai simboli dell'Associazione, Leporano fa ufficialmente parte, soddisfatto il segretario dell'Associazione Giuseppe Semeraro. Voglio ringraziare Don Pasquale, che ha sempre creduto con attenzione al nostro progetto associativo, l'amministrazione uscente del sindaco dottor Vincenzo Damiano, che nel marzo scorso ha deciso di condividere questo percorso, la dottoressa Giovanna Delotta, che è stato il ponte per questa adesione.